...fantastici, ok? Allora, solamente ancora un secondo, abbiate pazienza, la maestra Chiara Guerrini sul palco, grazie. Ecco, diciamo quanti sono le nostre show dance, è tutto? Allora, questi show dance sono due, quattro, sei, sette show dance. Vi ricordiamo che nella specialità show dance vengono premiati i primi tre show dance, quindi la premiazione prevede solo la zona modio, eh? Quindi la conquista è il popolo. Questo non è meglio per le altre categorie? Sì, tutti quanti. Ok. A seguire subito, dopo questi show dance master, ci sarà la baciata multi master, corretto? Fantastico, perfetto. E allora, ci siano tutti, voi ci siete un cenno? Voi ci sono tre, due, uno, gara per voi! Su prossima! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.